salve a tutti friends dal vostro supercorris col nostro lorello celabello ragazzi terzo appuntamento con la nuova stagione hyundai e qua c'è veramente un appuntamento bello bello perché ragazzi croatia rally uno dei rally preferiti dal nostro lorello asfalto andiamo a vedere la classifica per capire più o meno cosa stiamo combinando siamo primi qua una bella vittoria sarebbe proprio un toccasana la pista c'è rally mi piace le prove speciali mi piacciono quindi a vedere se riusciamo a acquisire una nuova vittoria che ci può dare una mano io direi di aggiungere le gomme da bagnato allo shakedown facciamo così da mettiamo un po di tutto a livello di gomme andiamo a un fasto shakedown come sempre ragazzi mi iscrivervi a tutti i miei canali lasciate un like sui miei social sul canale telegram ufficiale supercorris 84 se volete avere news su quello che esce in anteprima partecipare sondaggi no piove 5 4 3 2 1 si parte c'è una mia raccolta fondi supercorris and friends potete aiutare potete aiutare a raccogliere fondi ad una rimbeneficienza link di paypal in descrizione come sempre questo stesso c'ha delle reazioni assurde certe volte si sente prendendo lo force feedback certe ammazzate qua andiamo piano eh tanto la shakedown si passa sì sinistra 5 lunga chiude in sinistra 4 corta e sinistra destra 6 in destra 5 corta sinistra 5 corta 200 e stai al centro su cima salta 50 sinistra 5 corta destra 5 taglia in destra 4 taglia poco e destra 3 non tagliare frena in secca sinistra no sinistra 5 in destra 3 chiude e sinistra 4 destra 3 in sinistra 3 corta destra 3 su cima sinistra 3 non tagliare in destra 4 stringe e sinistra 5 freno pesante in sinistra 2 corta destra piena taglia in sinistra 4 non tagliare e secca destra 30 secca destra taglia poco stringe in destra 3 100 attenzione stringe 100 attenzione freno pesante destra 3 taglia poco in sinistra 4 corta taglia 30 e sinistra 2 corta taglia 100 attenzione sinistra destra 2 in destra piena che è successo mostrana strana valiena cacchiera ho lasciato internet acceso 5 4 3 2 1 via destra 6 corta 80 pericolo secca destra non tagliare allarga 200 dai a sinistra freno pesante tornante destro in sinistra 1 in destra 5 chiude in sinistra 4 corta in destra 5 chiude in sinistra 4 apre non tagliare in sinistra 4 e destra 3 in destra 3 e sinistra 4 chiude 20 sinistra 3 in destra 5 taglia in sinistra 4 media 50 destra 2 stringe no ma santo dio santo e sinistra 4 in sinistra 3 corta e sinistra 2 80 destra 5 chiude 3 corta in sinistra 3 100 destra 4 in sinistra 3 non tagliare e destra 4 in sinistra 4 tieni destra 5 in sinistra 4 corta e destra 5 e sinistra 5 taglia poco in destra 4 100 c'è la ragazza scivolata pazzi non ho capito che cazzo di come mi hanno montato sti pazzi attenzione destra sinistra 2 20 da scivolare pazzi oppure è qua destra 4 taglia in sinistra 3 eh niente non vana non ci prego prima prova speciale è sempre così l'orello demolisce un po' lo stage in destra 5 chiude in sinistra 3 taglia poco in destra 4 stringi sinistra 5 taglia e attenzione secca destra taglia 30 su cima sinistra 5 corta 250 freno pesante secca destra taglia e destra 4 in sinistra 4 in destra 4 e sinistra 3 taglia e destra 4 in destra 4 in sinistra 3 e destra 4 in sinistra 6 taglia poco frena sinistra 3 30 destra 4 taglia in sinistra 6 destra 5 media in sinistra 2 non taglia 80 attenzione sinistra 5 frena in destra 2 lunga su ponte 200 sinistra 1 media 150 sinistra 3 stringe media in sinistra 5 corta e destra 2 30 destra 3 in sinistra 4 chiude in destra 3 e destra 3 50 sinistra 3 in destra 3 corta pieni sinistra 3 e destra 2 stringe e sinistra 2 taglia poco e destra 2 non tagliare si frena a mano e sinistra 5 stringe in destra 3 e sinistra 4 taglia so di sterzo di merda si gira da solo in certe curve cazzo raga peccato per gli errori questa la vincevamo facile non ho visto il guardrail purtroppo sono uscito largo pensando che non c'era nulla la potevo fare molto larga la curva è ma fregata dai però un secondo e 9 nonostante la penalità da Tana che buona peccato gran peccato andiamo là full attack ora di Lorello ce l'ha bello concentration però il nostro Lorello qua deve dare totos in totos facci divertirlo ora 5 4 3 2 1 partenza 30 destra 3 chiude freno pesante secca destra in sinistra piena 150 destra 4 chiude taglia poco in sinistra 3 taglia poco e destra 2 taglia poco indossi sinistra 4 stringe e sinistra 4 corta e destra 5 taglia poco in sinistra 6 80 e sinistra 3 100 sinistra 4 taglia poco in destra sinistra 5 taglia poco 100 destra 5 lunga in sinistra 5 corta e sinistra 6 corta addossi in tornante sinistro allarga 100 destra 6 in sinistra 6 stringe 50 sinistra 5 in destra 5 in sinistra 5 corta perché ti giri da sola porco zio in destra 5 lunga e sinistra 5 corta in destra 2 lunga e sinistra 6 e sinistra 3 chiude media e sinistra 4 non tagliare apre e destra 4 tieni sinistra 5 non tagliare in destra 5 corta non tagliare in sinistra 6 non tagliare e destra 5 media in sinistra 6 150 attenzione stringe stai a sinistra in destra 4 e sinistra 4 e sinistra 4 eh ragazzi aspettate un attimo che qua ci sta qualcosa che non mi ridà perché porco zio non si può portare sta macchina non abbassa carico c'è entratura automatica qua ho messo tutto un po' alto per vedere se riuscivamo a perché se no gira da sola destra 4 media 300 molto meglio ma forse ancora troppo comunque attenzione destra 3 taglia molto all'incrocio muro interno 150 stringe destra 4 chiude in sinistra 3 in destra 5 lunga chiude 100 destra 4 stringe e destra 4 in sinistra 5 attenzione 30 sinistra 3 su ponte stringe destra 6 chiude 4 corta 30 sinistra 4 non tagliare lunga destra 4 in sinistra destra 6 corta sinistra 3 200 attenzione destra 4 lunga 100 attenzione sinistra 5 in destra 4 attenzione chiude 120 sinistra 4 in destra 4 chiude sinistra 4 chiude in arrivo non riesco non riesco mai a regolare bene sto sterzo purtroppo ho troppo alto tutti i parametri non si sente per niente il force feedback non lo so e vai Lorello 1.7 cazzo di gara tirata voglio 1.6 da Tanac cazzo pensavo di meno e vai si prende la testa della gara Lorello ce l'ha bello ma adesso non basta subito un'altra prova speciale vinciamo manco ste gare qua vaglioso asfalto è finita il mondiale tante Tanac le vince tutte quante 5 4 3 2 1 andiamo 50 sinistra 5 taglia in destra 5 lunga chiude e sinistra 5 chiude 100 vedi il force feedback non ce l'ho più ho capito perché sinistra 4 30 destra 4 in sinistra 5 ah bisogna stare attento a si possa tirare a rari che ti sfuggono la macchina se ci mette la potenza in sinistra 4 chiude e destra 4 apre stringe sinistra 4 in destra 4 chiude ah che fa detta è fatta in sinistra 3 lunga e destra 3 corta 80 attenzione freno pesante tornante sinistro taglia 30 destra 5 corta chiude non tagliare in sinistra piena 120 sinistra 4 apre lunga 30 sinistra 5 corta in destra 6 corta e destra 4 non tagliare ah cazzo fa su star se si gira da sol sinistra 4 corta in destra 5 corta e destra 4 in sinistra piena sinistra 3 50 50 destra 5 lunga chiude in sinistra 4 corta e sinistra destra 6 in destra 5 corta sinistra 5 corta 200 e stai al centro su cima salta 50 sembra in demoniato lo star su medagli strattoni imprevedibile destra 5 taglia in destra 4 taglia poco e destra 3 non tagliare frena in secca sinistra sinistra 5 in destra 3 chiude e sinistra 4 destra 3 in sinistra 3 corta destra 3 su cima sinistra 3 non tagliare in destra 4 stringe e sinistra 5 freno pesante in sinistra 2 corta destra piena taglia in sinistra 4 non tagliare oddimo l'orella entrava dentro casa della signora sta a fare i cannelloni destra taglia poco stringe in destra 3 100 attenzione stringe 100 attenzione freno pesante destra 3 taglia poco in sinistra 4 corta taglia 30 sono uscito dalla linea cazzo attenzione sinistra destra 2 in destra piena ma da vaffanculo la base sono andato a tagliare troppo e sinistra 2 taglia poco stringe in destra 2 non tagliare non è successo niente attenzione secca sinistra allarga 80 ai ai ma mi sono uscito di testa sinistra piena in destra 5 lunga chiude non è successo niente dai ne ho perso un secondo più o meno e sinistra 6 su cima stai al centro 50 destra 5 e destra 5 molto lunga sinistra 6 in salta all'incrocio 80 destra 5 taglia poco in sinistra 5 chiude e destra 6 non tagliare in sinistra 5 taglia poco attenzione freno pesante molto stretta sinistra 3 corta in destra 1 lunga sinistra 3 chiude in destra 4 stringe 100 sinistra 5 corta 50 sinistra 4 tieni destra 5 in sinistra 5 corta 100 su cima dossi destra 5 corta taglia poco casa interna e destra 5 sinistra 6 chiude in destra 5 corta taglia poco sinistra 5 corta in destra 6 e arrivo cazzo voglio abbiamo perso ha fatto degli errori ha voglia di tagliare troppo le curve della mia testa bacata ha fatto degli errori gravi porca zio belle queste pozzanghere 2D 4 secondi persi porca zio 2 decimi da 8 tanac non mi dico è finita nooo raga per 2 3 decimi abbiamo perso il rally cazzo di coglioni succede voglio succede purtroppo ci sono anche dei momenti in cui non si vince andiamo a vedere la classifica che sfiga ma stiamo a pari punti con tanac cioè minchi manca la power stage abbiamo vinto pari punti con tanac ragazzi non possiamo fare nulla purtroppo è andata così dai ci vediamo ai prossimi video ciao